I carabinieri della compagnia Torino Oltredora hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP su richiesta dalla procura di Torino nei confronti degli autori di un raid prunitivo con mazze di ferro e coci di bottiglia, tutti domiciliati nel campo nomadi di via Germagnano. Cinque persone sono ritenute responsabili di rapina aggravata e lesioni personali in danno dei titolari e dipendenti di un esercizio commerciale di abbigliamento gestito da cinesi nel quartiere La Falchera. Il provvedimento tra origine da un'indagine della stazione Torino Borgata La Falchera che ha consentito di ricostruire compiutamente la dinamica dei fatti. Il 6 marzo scorso due degli indagati sono entrati nello store per rubare e svuotare il negozio. Non siamo venuti per comprare ma per rubare tutto, vi ammazziamo e bruciamo tutto il negozio, hanno detto i due rapinatori e i titolari, ma la loro pronta reazione li ha fatti desistere. Poco dopo sono tornati con i complici di cui uno è evaso dalle resti domiciliari e armati di bottiglie di vetro rotta e mazze di ferro hanno attuato un ride punitivo, iniziato con la devastazione e il saccheggio del negozio di ulteriore merce per un valore di 5.100 euro e conclusosi con il tentativo di un solo membro del branco di investire con la propria autovettura due membri dello staff. Al termine della spedizione due dipendenti sono dovuti ricorrere alle cure mediche. 80 carabiniere hanno effettuato varie perquisizioni all'interno del campo nomadi con il supporto di un elicottero del nucleo dell'elicottero di Volpiano.